Importante affermazione del Sulmona Rugby 1967 che domenica si è imposto a Tortoreto per 36-30 nella gara valida per la settima di ritorno del campionato di Serie C2. E' stata una partita sofferta per i Peligni che all'inizio erano andati sotto di 15 punti per via del dominio dei padroni di casa a segno con due mete ed un calcio di punizione. La reazione della squadra di Mauro Ranelli è arrivata con la meta di Fernando Lusi. Da qui in avanti il match si è reso più equilibrato e molto combattuto. Alle mete del Tortoreto hanno risposti Sulmonesi con la doppietta di Pierfrancesco Arquilla e le mete di Alessio Di Buccio e del capitano Stefano Casalvieri. Al termine il risultato si è determinato a favore del Sulmona con cinque mete segnate. Si tratta di una vittoria preziosa su un campo difficile che riempie di soddisfazione tutto il team del Sulmona Rugby 1967 che in classifica si porta a meno due dalla vicecapolista falconale. Domenica prossima, 15 aprile, altro impegno in trasferta per i giallorossi che affronteranno il rugby fermo per il recupero della gara valida per la dodicesima di ritorno non disputata lo scorso 4 marzo per neve. Grazie. 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 Grazie.